ok da questo momento il console mister Stefano Carpi DJ direttamente da Macros la regia è quella di Quake PC siamo partiti leggeri come sempre meno male che mi aveva detto Lorenzo di partire leggerino un bel petardo come al solito la figurante il culetto di un porcellino grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Vi ricordo che potete inviare i vostri sms ed interagire con noi al 339-195-4439. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti